Il carrello da bici per bimbi single trailer di 2terrain è l'unico rimorchio da bici per bimbi monoruota e ammortizzato che grazie al suo ingombro ridotto in larghezza ha tutte le carte in regola per essere il mezzo di trasporto ideale per portare i vostri bimbi sia sulle classiche piste ciclabili che su sterrati più impegnativi con i suoi 45 centimetri di larghezza risulta essere poco più ingombrante rispetto all'ingombro della vostra mountain bike considerando la larghezza manubrio e il peso di 9 kg e mezzo promette una resistenza a arrotolamento estremamente bassa e costante il trailer si collega alla bici tramite uno snodo che si connette all'attacco da installarsi sul tubo sella quest'ultimo resta permanente sulla bici ospitante quindi nel caso si abbiano più bici conviene acquistarne della misura adeguata per lasciarli installati e pronti all'uso su ogni bicicletta lo snodo presenta una classica chiusura a galletto in stile bici da corsa e una ulteriore sicura a spina che ne evita lo sfilamento accidentale come ulteriore sicurezza c'è anche un cavo d'acciaio con un moschettone da fissare al telaio della bici questo snodo sferico rende il rimorchio più agile e manovrabile anche sui passaggi più stretti come quelli che si possono incontrare sui single track nei boschi in mountain bike per aiutarvi nel procedimento di installazione una volta messo il cavalletto il trailer resta dritto e riesce a mantenere in piedi anche la bici quando avrete collegato il tutto il cavalletto si ripiega e si fissa con un apposito gancio sotto il trailer tutto questo senza dover scendere a compromessi in termini di sicurezza e di comfort la seduta del bambino è dotata di un ammortizzatore con corsa regolabile fra i 160 e i 200 millimetri in aggiunta il telaio con cui è costruito il rimorchio da bici per bimbi offre un notevole assorbimento agli urti e il sedile è ricoperto da tessuto traspirante e ripieno di schiuma di poliuretano che protegge il bimbo da sul riscaldamento e dal freddo la cintura di sicurezza è a cinque punti e imbottita per aumentare comfort e sicurezza ai lati sono presenti due finestre panoramiche in materiale uv assorbente che forniscono al vostro piccolo passeggero una buona visibilità e protezione le configurazioni previste per il single trailer sono quattro aperto le due tendine vengono arrotolate fissate in sede tramite degli appositi bottoni chiuso con la tendina in rete il bimbo potrà godere dell'aria fresca ma rimanere ancora protetto compara pioggia il trailer non è impermeabile ma a prova di acqua infine compara sole complessivamente il carretto non ha davvero problemi di manutenzione una normale pulizia e lubrificazione delle varie parti saranno sufficienti per mantenerlo in efficienza dovrete solo prestare attenzione alla corretta regolazione della pressione dell'ammortizzatore posteriore questo infatti va regolato in base al peso del bimbo inoltre ogni volta che assicurerete il carellino alla bici vi consigliamo di fare un rapido check dello snodo è solido e ben costruito ma per una maggiore sicurezza meglio controllare che non vi siano giochi fra le parti i tessuti che compongono il rimorchio e il riduttore per chi lo dovesse acquistare si rimuovono facilmente e possono essere lavati in lavatrice a 30 gradi queste sono le nostre considerazioni dopo oltre 2000 chilometri e un anno di utilizzo su diversi tipi di terreni su asfalto e piste ciclabili ma anche su sterrati e single track più impegnativi grazie